Il senatore Faraone illustra l'interrogazione del numero 2.132 concernente il coinvolgimento dell'esercito nella distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Prego, senatore. Grazie, Presidente. Grazie, Signor Ministro. Lo diciamo da mesi che lo strumento più efficace per sconfiggere questo maledetto virus è riuscire a superare questa emergenza sanitaria per riprenderci da questa terribile crisi economica e il vaccino. Lo abbiamo detto e ora che ci siamo, nel senso che vaccini nuovi sono stati scoperti e sperimentati proprio perché nuovi necessitano però di una sensibilizzazione straordinaria che dovrà essere fatta tra i cittadini nel nostro Paese. Dovrà essere ancora più efficace per superare una vergognosa e costante e continua campagna dei Novavax contro questo strumento. Noi stiamo vivendo un periodo in cui abbiamo già sperimentato, Signor Ministro, la sola implementazione del vaccino antinfluenzale e abbiamo verificato che ci sono difficoltà enormi nel riuscire a organizzare già quell'implementazione. Ora, noi dobbiamo in poche settimane, e questo è l'obiettivo per la vaccinazione anti-Covid, realizzare l'immunità di gregge. Per realizzare l'immunità di gregge, Signor Ministro, abbiamo bisogno di vaccinare almeno 40 milioni di italiani e tutto questo dovremo farlo in pochissimo tempo. È solo con l'immunità di gregge che siamo riusciti negli anni a sconfiggere il polio, il vaiolo e altre malattie. Ed è solo con l'immunità di gregge che noi riusciremo a garantire tutte le persone che non potranno vaccinarsi perché stanno facendo una chemioterapia, perché immunodepresse. Questo è quello che dobbiamo spiegare costantemente. La vaccinazione di massa serve innanzitutto a loro. Ora, naturalmente per fare tutto questo, vaccinare 40 milioni di italiani almeno in poche settimane, c'è bisogno di un impegno straordinario e non possiamo affidarci soltanto a quelli a cui ci siamo affidati per la vaccinazione anti-influenzale, ASL e medici di base. Abbiamo bisogno di un impegno straordinario e questo question time, Ministro, è proprio un question time rivolto a lei perché crediamo che il ruolo importantissimo dovrà avere l'esercito. L'esercito per le sue strutture, l'utilizzo delle strutture delle caserme, l'esercito per la distribuzione, per la somministrazione. Per cui non le chiediamo se siete pronti perché l'esercito è pronto per definizione. Non le chiediamo l'impegno perché ci fidiamo del suo impegno, Signor Ministro, le chiediamo cosa state facendo materialmente per realizzare un'organizzazione così imponente. Grazie. Grazie, Senatore Fareone. Il Ministro della Difesa, Onorevole Guerini, risponde alle interrogazioni illustrate. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, ritengo doveroso, prima di entrare nel merito della trattazione della tematica odierna, ribadire che sin dai primi giorni dell'insorgere dell'emergenza le Forze Armate hanno fornito il loro apporto, esprimendo capacità diversificate che sono state messe e sono a disposizione della collettività e continueranno a farlo rispondendo alle necessità e bisogni del Paese, con una presenza continua e costante al servizio dei cittadini. Tanto premesso, è appena il caso di evidenziare che per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, il personale militare, sanitario e non, sta continuando a profondere, come richiamato dall'interrogante, un grandissimo impegno con dedizione, professionalità e spirito di servizio. E colgo nuovamente l'occasione, penso di interpretare anche l'onorevole senatore interrogante da questo punto di vista, per ringraziare le nostre donne e i nostri uomini in divisa per il lavoro che senza sosta svolgono dall'inizio di questa pandemia. Attualmente sono impegnati, tra gli altri, 1.400 militari per l'operatività di 200 dive-through in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno. A ciò va aggiunto il quotidiano lavoro ed impegno del personale impiegato nei laboratori diagnostici a Tarato e Ancona, negli ospedali da campo e presso gli ospedali militari di Milano e del Ceglio. Nell'attuale fase emergenziale, per quel che riguarda il tema posto dall'interrogante, la guida e il coordinamento del processo finalizzato alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini anti-Covid è in capo al Ministero della Salute, per quel che riguarda la definizione del piano strategico, ed è il Commissario straordinario, Dottor Domenico Arcuri, per la definizione degli aspetti logistico-organizzativi, in particolare relativi ai processi di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini, fondamentali per la realizzazione del piano strategico stesso. La Difesa partecipa, fin dalla sua Costituzione, al gruppo di lavoro intersettoriale del Ministero della Salute su vaccini e vaccinazioni anti-Covid-19, istituito con decreto direttoriale del 4 novembre 2020 e lavora stabilmente con il Commissario straordinario che, ad esempio, proprio questa mattina sta incontrando il Comandante del Comando Operativo Interforze, sotto la cui direzione ricadono tutte le missioni della Difesa, tra cui anche quelle relative all'emergenza sanitaria in corso. In tale quadro di coordinamento, la Difesa, come ha sempre fatto dall'inizio della pandemia, fornisce e fornirà tutto il supporto richiesto delle autorità predisposte in termini di concorso delle Forze Armate alla distribuzione e alla somministrazione del vaccino alla popolazione italiana. In tale ottica, il Comando Operativo Interforze ha già avviato il processo di pianificazione, che prevederà, ad esempio, per quel che riguarda il contributo alla distribuzione del vaccino, l'impiego, se ritenuto necessario, dalle suddette autorità, dalle infrastrutture logistiche e degli assetti di trasporto delle Forze Armate e, per quanto riguarda la somministrazione, l'ampliamento e la trasformazione della rete e dei drive-thru presenti in tutto il territorio. Infine, per eventuali esigenze specifiche, quali ad esempio l'intervento presso presidi residenziali per anziani, la composizione di team sanitari mobili pronti all'occorrenza. La Difesa, quindi, è pronta a rispondere con tutte le sue risorse di personale, mezzi e strutture alle esigenze che saranno rappresentate dalle autorità competenti, come ha fatto con professionalità e dedizione sin dall'inizio dell'emergenza pandemica. Grazie, Ministro. Facoltà di intervenire in replica al Senatore Faraone. Sì, Presidente, io mi dichiaro soddisfatto per la risposta del Ministro. Non avevo dubbi sul fatto che vi fosse da parte delle Forze Armate del nostro Paese una disponibilità e una organizzazione adatta ad affrontare una sfida che fa tremare i polsi, perché, ripeto, vaccinare milioni di italiani in poche settimane non sarà per nulla semplice, bisognerà farlo in luoghi non affollati per evitare ulteriori contagi. Ci sarà bisogno di un secondo richiamo, quindi la mobilitazione sarà enorme, quindi il vostro ruolo sarà indispensabile, sono soddisfatto della sua risposta. Naturalmente noi tutto questo lo dobbiamo a chi non si potrà vaccinare, Signor Ministro, perché molti di noi possono scegliere se vaccinarsi o meno. Ci stanno tante donne e tanti uomini immunodepressi che stanno facendo chemioterapia che invece non potranno nemmeno scegliere, saranno nelle stesse condizioni degli anziani o di chi ha una patologia oggi, che rischia la vita perché c'è un virus che colpisce innanzitutto loro e colpisce le loro vite. Noi dobbiamo evitare tutto questo, per cui la diffusione, secondo noi, dovrà essere anche del vaccino oltre che diffusa, gratuita e dovrà, questa è una nostra opinione, anche essere obbligatorio il vaccino proprio per garantire questa possibilità di diffusione imponente che ci vorrà in poco tempo. Quindi grazie ancora per l'impegno e siamo soddisfatti. Grazie. Grazie Senatore Faraone.